123 presenze in Serie A, 169 in Serie B e una presenza in Champions League. Per il difensore Pablo Della Fiore una carriera prestigiosa e ora una nuova avventura con la maglia del manto. Due settimane di allenamenti agli ordini di Mr. Brando e poi il via libera per il tesseramento con la maglia bianco-rossa. Da parte mia c'è tanto entusiasmo perché comunque la piazza è importante. Ringrazio anche la società che mi ha permesso di restare e firmare con loro. La voglia di giocare nonostante magari qualche anno, magari gli ultimi anni ho giocato poco e nonostante i 34 anni c'è. E quindi niente, sono entusiasta, sono contento di essere qua e spero di dare il mio contributo a questa squadra per il proseguo del campionato. Ora il compito sarà quello di calarsi in una categoria completamente nuova. Su quello che lo aspetterà e sulla sua nuova avventura qualcosa ha già avuto modo di assaporare domenica ad Alfonsine dove era presente sugli spalti perché è squalificato. Un esordio in questa categoria però penso che Mantua sia come piazza che come città e per il passato che ha avuto. Penso che cambisce ad altri tipi di categoria e penso che le basi per un futuro positivo ci siano. La squadra mi è sembrata sia fin dai primi giorni comunque un'ottima squadra con giocatori importanti per la categoria e penso che comunque la classifica al momento lo rispecchi. So che adesso siamo dicembre quindi aspettiamo poi a fine aprile, maggio a far tirare le somme però penso che una buona base ci sia. Con questo tassello il Mantua va a rinforzare quindi il reparto difensivo ultimamente sotto i riflettori per le troppe reti subite. Un acquisto che aggiunge esperienza e qualità. Grazie mille.